Ciao a tutti, lei Demi e lei Holly e benvenuti in questo nuovo video Guardate qui cosa sappiamo delle gift card per andare a fare shopping Ma prima di iniziare il video iscrivetevi al canale e clicchiamo sotto la campanella Per attivare il link alla fine del video mettete un bel like ed ora andiamo Qui ci troviamo al centro commerciale Oreo Center di Bergamo dove utilizzeremo le card che ci hanno regalato le nostre feste di compleanno Grazie a tutti 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 Grazie a tutti